La parola al direttore perché poi alla fine abbiamo chiamato questo dibattito Operazione Verità, proprio alla luce della provocazione anzi della grande campagna che ha lanciato con il suo giornale sul Mezzogiorno, sui fondi del Mezzogiorno c'è un manifesto per l'Italia che sta ottenendo dei consensi noi partiamo dal direttore napoletano che ovviamente non c'è bisogno in questo caso non c'è bisogno di presentazione, è un giornalista famosissimo quindi non aggiungo altro e poi vediamo cosa ne dicono i nostri altri relatori Intanto grazie, purtroppo sono arrivato da poco quindi ho seguito con molto interesse la tavola rotonda che mi ha preceduto io voglio dire sinceramente poche cose su cosa vuol dire Operazione Verità quando, veramente devo ringraziare Francesco e Antonella Dodaro perché è stata un'idea loro, non li conoscevo neppure quindi c'è qualcuno nel Mezzogiorno che ha ancora voglia di fare qualcosa di secondo me importante e che garantisce questo bene preziosissimo che è la libertà che per un direttore è una cosa di una certa rilevanza bene, quando mi hanno detto di questo progetto di fare un giornale io non ho mai pensato nemmeno per un secondo di scrivere un editoriale perché ne avevo già scritti troppi per dire perché si fa un giornale e ho fatto un'inchiesta e l'inchiesta è molto semplice io sono partito da Ciampi perché mi ricordo sempre che Ciampi ogni volta mi diceva ma basta, ma guarda qua, nessuno capisce niente tutti stanno a guardare i conti dello Stato centrale delle amministrazioni centrali ma nessuno si è reso conto che noi abbiamo creato 20 staterelli e alcuni di questi vogliono prendere il posto dello Stato e operano per prendere il posto dello Stato italiano e quindi tu, lui mi disse, guarda, ma cosa si fa? no, bisogna inventare i conti pubblici territoriali quindi prese Barca però soprattutto, lui mi diceva sempre sinceramente magari Barca si dispiace qui ci vuole una che conosce i conti e chiamò Mariella Volpe dalla ragioneria generale dello Stato e così, sia pure due anni dopo, sappiamo la verità se uno va a vedere i conti pubblici territoriali che vuol dire amministrazione centrale ma vuol dire anche regioni, province, comuni, comunità montane IMS, ANAS, ferrovie cioè significa la spesa pubblica italiana scoprirà che al 34,3% della popolazione che è sud va il 26,3% e al 65,7% del centro nord va il 71,7% questo 6% significa 60 miliardi l'anno e io prima di scrivere questo numero continuiamo a guardarmi e dico ma non lo posso scrivere perché sono troppi no perché io voglio dire tutto si svaluta abbiamo tanti soldi poi questo è un discorso da fare con intelligenza perché veramente lì è un paese dove si passa da scrivere abolire il mesogiorno la secessione dei ricchi come se fosse la stessa cosa ma è sempre la stessa persona che l'ha detto allora 60 miliardi l'anno in 10 anni sono più di 600 miliardi io non lo volevo scrivere perché secondo me era un numero troppo importante allora ho detto devo capire perché e come è successo e me l'hanno spiegato non l'ha spiegato la generazione dello Stato ma l'ha spiegato tanta gente bene quando nel 2009 Calderoli ha fatto la legge sul federalismo perché noi parliamo di autonomia ma noi siamo già in piena secessione dei ricchi attuata da 10 anni quale autonomia siamo in pieno federalismo ma di che cosa parliamo? di che cosa parliamo? lui ha fatto questa piccola legge siccome a differenza anche di Salvini ha più profondo senso delle istituzioni Calderoli si rendeva conto che se si poteva ripetere a pappagallo ogni giorno, ogni momento che la Costituzione prevede il federalismo fiscale però bisogna anche ricordare che due articoli sotto la Costituzione dice che si può attuare il federalismo fiscale ma non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B scuola, sanità, trasporti tutti devono avere le stesse risorse pro capite e quindi cosa fa Calderoli consigliato da Tremonti per attuare il disegno di Bossi? fa la legge sul federalismo fiscale che dice noi ci impegniamo a definire i livelli essenziali di prestazione a definire i fabbisogni istante però nel frattempo siccome ci vuole un po' di tempo utilizziamo la spesa storica la spesa storica dura da dieci anni nessuno se ne è accorto tutti fanno finta di niente e la spesa storica significa che il ricco diventa sempre più ricco e il povero diventa sempre più povero cioè io mi sono convinto che tutti pensano che il gioco delle tre carte ovviamente sia nato a Forcella e vive a Forcella no, il nuovo gioco delle tre carte è nato a Pontile e è cresciuto a Varese perché con molta no ma è vero nel senso che loro sono riusciti a prendere ci sono due carte la carta dei fabbisogni standard e la carta dei livelli essenziali che poi si declinano in tante modalità perché la spesa storica ha tante sorelline e tanti fratellini sono tutti da una parte e tutti contro l'altra parte ebbene queste due carte le abbiamo buttate nel cestino ce ne siamo proprio dimenticate e la carta che permette al ricco di stravincere è l'unica carta che è rimasta sul tavolo questa è la spesa storica ma sentite ma è possibile che se io nasco ad Altamura che è Italia è Italia Altamura e mi assegnano per sempre zero euro e secondo Calderoli e Bossi è a vita per gli asili pubblici se io nasco in Brianza dieci anni fa avevo 2500 euro ma adesso ne ho 3000 quindi zero euro ma non 3000 euro delle ricche famiglie della Brianza no dei soldi del bilancio pubblico italiano dice ma perché nessuno ha detto niente è perché tutto si decideva nella conferenza Stato-Regioni quindi l'idea è di Bossi ma qui c'è stata l'alleanza dei ricchi se ci fate caso la governance delle regioni del nord Lombardia, Veneto, Piemonte è stata quasi sempre del centro-destra la governance delle miglia romagna e della Toscana è stata sempre del centro-sinistra e a quel tavolo centro-destra e centro-sinistra stavano sempre insieme e sempre dalla parte sbagliata perché sapete perché la parte sbagliata? perché un bel giorno questo nord ricco con i soldi del sud ma qua non sono chiacchiere questi non sono residui fiscali invenzioni per cui per cui non so intesa San Paolo una banca forse la terza, quarta d'Europa paga le tasse a Torino verrà il governatore del Piemonte e ti dice che i soldi che pagano le tasse sono dei cittadini piemontesi non mi pare che sia stato prodotto lì questi sono soldi veri sono erogazioni vere di anno in anno del bilancio pubblico gli territori cambiano se tu non fai una scuola non fai un asilo nido non fai una palestra non permetti che l'unico muratore sia quello che è rimasto della criminalità organizzata perché diciamo la verità avete avuto i fotografi quindi penso che vi abbia informato che l'ottanta e passa per cento dell'attività dell'andrangheta è in altre parti d'Italia guarda io racconto solo questo anetto anche se devi un attimo io ero direttore del messaggero quindi molti anni fa venne a trovarmi il prefetto Caruso faccio nome e cognome che veniva da Palermo e lui mi disse le voglio chiedere un piacere però non diceva mai qual era questo piacere un piacere personale tant'è vero che io mi ero convinto che avessi un figlio una figlia che volesse fare giornalista dico magari ci spostiamo un secondo no 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 non è quello lo dica le volevo chiedere il piacere personale di non mandare più nessun inviato a Palermo ho detto perché li abbiamo arrestati tutti e dice ma allora li manda a Napoli se vuole fare un po' di colore dice Gomorra scusi ma dove li devo mandare li mandi a Reggio Emilia li mandi a Modena li mandi a Verona li mandi a Belluno lei ce l'ha una squadra di pallone di undici inviati per presidiare tutti i comuni della provincia di Milano quello che gli avanza come colonisti li mandi nei bar e nei ristoranti di Roma e di Milano guardate che questo paese continua a parlare di cose inutili qua bisogna dire una volta per tutte che questo regionalismo ha fatto dei danni ciclopici noi abbiamo consentito di attingere al bilancio pubblico per aumentare le diversità ma è molto semplice in dieci anni l'edito pro capita del PIL dal 65 è passato al 50% se facciamo se stiamo zitti per altri sempre dicendo abbiamo tanti soldi non siamo capaci di spendere e siamo sempre abbiamo abolito al mezzogiorno continuiamo tra cinque anni sei anni siamo al 30% ma non è che abbiamo fatto l'interesse del nord perché un nord così debolito è pronto per essere comprato su un piatto d'argento dal capitalismo di stato cinese dalla finanza francese dalla grande imprensa tedesca perché non contano più niente e dobbiamo e ha ragione Spallanzani quando parla della piccola impresa però vorrei ricordargli e vorrei che mi ascoltasse che non è vero che il paese che l'Italia non ha avuto una grande impresa perché la Montedison era italiana sapete che ogni tanto un italiano vince un premio Nobel per la ricerca ma la ricerca non l'ha mai fatta in Italia per trovare un italiano che ha vinto un premio Nobel per la ricerca bisogna tornare a Giulio Natta che si inventò il polipropilene isotattico cioè le vaschette di plastica della Moplen che hanno cambiato il modo di vivere degli italiani degli europei beh c'era una grande azienda italiana una grande azienda chimica la chimica di base non la chimica di specialità che cambiava il modo di vivere degli europei poi c'erano tante piccole imprese che godevano di questa crescita di questo primato c'era l'Olivetti è solo l'ingegnere Benedetti che ho convinto di averla salvata mi dispiace l'ho detto tante volte non è diventata manco un'altra cosa non c'è più è morta esisteva l'Olivetti era un primato un mondiale italiano c'era la Lucchini ma non ha avuto eredi ah sì sì li conosco bene poi il padre non c'è più l'Italcemente sono diventati tedeschi vogliamo continuare possiamo arrivare alla Pirelli sono diventati prima russi poi cinesi ma di che cosa parliamo questo assistenzialismo rubato dal nord al sud ha fatto male molto male al nord ma com'è possibile l'abbiamo pubblicato ieri ma io pubblico dati ufficiali dati del sistema statistico nazionale dati della corte dei conti perché ognuno ha fatto il suo dovere lo fa tutti gli anni lo scrive ma com'è possibile che una regione come il Piemonte per fortuna siccome ci sono delle regole di trasparenza questa è una grande fortuna tutti i bilanci delle regioni devono esporsi con le stesse modalità con le stesse caratteristiche quindi non puoi dire chissà che ma chi ingegno c'è in Campania in Calabria no lì c'è scritto servizi generali organi costituzionali bene regione Piemonte un milione e mezzo di abitanti meno della Campania spende per i servizi generali cinque volte di più di quello che spende De Luca che presumo che per tutti sia non ho frequentazione ma presumo che sia da tutti individuato come il capo delle clientele e nessuno nemmeno sa il nome del capo del Piemonte nella sanità veneta che è indicata da tutti come modello il numero degli addetti il veneto ha un milione di abitanti meno della Campania non un milione e mezzo e da 16.000 addetti in più chi li paga? ma scusami diritto allo studio diritto allo studio beh diritto allo studio penso che veramente debba essere uguale per un cittadino italiano bene questo l'abbiamo pubblicato oggi 423 milioni per il diritto allo studio in Lombardia 23 milioni per il diritto allo studio in Puglia allora io la voglio fare breve se il mese o il giorno non cambia voglio concludere perché se no siccome lo so l'osservazione gli puoi dare non so quante decine di miliardi saremo sempre a terra però però dobbiamo anche renderci conto io mi ricordo Financo adesso la cito a mente Financo Keynes diceva che io non so quali azioni fare per fare bene il mio cavallo ma il dovere di dargli l'acqua io ce l'ho qui se hanno tolto l'acqua ci puoi mandare il pateterno in persona la barca del sud non prenderà mai più il largo qui non si tratta di chiedere l'elemosina si tratta di rivendicare ciò che è stato con artificio e in modo truffaldino tolto al sud tolto alle donne agli uomini ai bambini del sud quindi questa è la realtà io però posso chiederti una cosa cioè noi abbiamo fatto in questi ultimi mesi abbiamo fatto altro perché parlare di abbiamo fatto altro abbiamo fra le altre cose parlato della richiesta di autonomia da parte delle regioni come il Veneto come la Lombardia e poi in modo un pochettino più soft l'Emilia Romagna ma tu come te la spieghi questa cosa perché su quello si stava proprio spezzando il patto del vecchio governo giallo verde vorrei dirti di più mi raccomando però rapidissimi su questo si è rotto il patto il governo è caduto per questo adesso non voglio dire non voglio lasciamo perdere quell'anno del sud però resta il fatto che si è aperta un'indagine conoscitiva alla Camera sui dati che abbiamo dato noi e adesso Fontana che si è permesso di dire al presidente del consiglio un governatore di una regione è un uomo inetto semplicemente perché il presidente del consiglio si era permesso di dire dobbiamo discutere della spesa storica risposta del governatore della Lombardia se si parla di spesa storica io al tavolo nemmeno mi siedo signori noi dobbiamo fare i conti con la grande balla da vent'anni raccontiamo che il sud è un'idrovola della spesa pubblica invece l'idrovola della spesa pubblica sono le regioni del nord e si è anche spiegato tecnicamente come ciò è avvenuto siccome ma ieri c'era Centinario che è il ministro dell'agricoltura ha detto eravamo alla 7 cosa ha detto no certo i 60 miliardi ci sono ma se gli dai anche 120 miliardi non parte più il sud io non sono d'accordo su questo e ritengo che sia molto mio da parte del nord quindi l'autonomia c'è il fondo mio di domani c'è un vento del nord ma non è di tutto il nord io vorrei sottolinearvi cosa ha detto il sindaco di Milano il sindaco di Milano ha detto io mi attendo da questo nuovo governo che sia totalmente ribaltata la logica dell'autonomia e mi attendo che si faccia una verifica seria su come ha funzionato questo regionalismo che per me è un modello di inefficienza l'ha detto il sindaco di Milano quindi siamo a posto il direttore napoletano parlava di numeri parlava di conti quindi in automatico il pensiero arriva alla corte dei conti e arriva a te Antonello Colosimo grazie io infatti per un momento ho pensato di avere un nuovo collega che non conoscevo poi mi sono ripreso e mi sono reso conto che effettivamente l'operazione verità partiva dal fatto di sentire il direttore napoletano che citava con enfasi adeguata dati e anche qualche provocazione ma il dato sulla autonomia è un dato che non tiene conto di un principio costituzionale l'articolo 119 comma 3 il presidente Baldassare lo sa meglio di noi parla di fondo di perequazione mentre la bozza che le regioni avevano preparato e che intendevano portare avanti quella di Lombardia e Veneto l'articolo 6 parlava di una compartecipazione dal gettito quindi già la scelta approvata dalle regioni dalle tre regioni Lombardia Veneto e Veneto e Romagna era in assoluto contrasto col principio costituzionale ma poi c'è un altro profilo il deficit infrastrutturale nel quale si trova il paese è un deficit che naturalmente non si copre con questo profilo di autonomia io spero di avere tre minuti per poter illustrare cinque slide dalle quali emergono questi seguenti profili dato 100 come numero di riferimento dell'indice di competitività infrastrutturale dell'Unione Europea 28 noi abbiamo un 49,3% che è la somma percentuale di tutti quei dati interclusi nel circuito rosso che riguardano l'accessibilità delle regioni al sistema autostradale ferroviario aereo e alla ferrovia ad alta velocità resta invece per il nord un dato pari al 92,3% dato 100 seconda slide dotazione di infrastrutture terrestri in rapporto alla popolazione basta che voi vedete gli ultimi dati nella parte conclusiva e voi vedete che per il sud abbiamo nel mezzogiorno il 51,1% e nel nord nel centro nord nel mezzogiorno abbiamo 52,1% e nel centro nord 138,6% stiamo parlando di indici 90-2015 questi sono dati della Svimez andiamo ancora avanti l'andamento della spesa in opere pubbliche 70-2017 quindi mi pare un range di tutto rispetto centro nord rosso mezzogiorno blè guardate che cosa è successo dal 1997 15 miliardi di investimento fino al 2017 crollo a 13 miliardi di investimento mentre per il mezzogiorno passiamo da 13 miliardi di investimento a un milione e mezzo questi sono i dati nel periodo preso il riferimento ancora nel 92 esatto certo questo lo dici tu io operazione verità particolare investimenti in opere pubbliche 1970 2017 e vedete il grafico per quanto riguarda mezzogiorno e centro nord un crollo verticale infine guardate perché poi dobbiamo anche dare una connotazione di praticità alla vita quotidiana di ciascuno di noi guardate le durate nette delle fasi di attivazione degli interventi infrastrutturali regione per regione sono naturalmente quattro le fasi progettazione affidamento e lavori guardate soltanto dal Molise dall'Abruzzo a scendere in giù quali sono i tempi della progettazione dell'affidamento e della esecuzione dei lavori ma il dato più incredibile che io ho rilevato nel corso della mia attività è che ad oggi non esiste una banca dati sulle opere pubbliche in Italia il dipartimento per la programmazione economica che al suo interno contiene il Cipe non ha una banca dati sulla quantità di opere progettate quantità e ammontare di opere messe a gara esecuzione delle stesse ritardi consegna e realizzazione 2019 dipartimento politica economica quindi se come diceva Enaudi conoscere per decidere è il presupposto di ogni azione di buon governo noi siamo nella condizione assolutamente grava di non cognizione e vorrei dare un ulteriore elemento di come dire vivacizzazione del nostro dibattito mettendo insieme quello che ha fatto la Germania unificata 1990 rispetto al Mezzogiorno d'Italia il dato che vi comunico è un dato che fa cadere i capelli dalla testa la le regioni del Mezzogiorno sono otto come sapete 76.000 chilometri quadrati e circa 14 milioni di abitanti la Germania dell'est prima dell'unificazione 5 regioni 108.000 chilometri quadrati 16 milioni di abitanti ebbene i dati relativi alla realizzazione delle opere dell'unificazione sono queste che la Germania intera ha investito nel periodo 90-2010 361 miliardi di euro per portare la Germania ex-DDR in una condizione post bellica ai livelli attuali inclusa naturalmente Berlino Lender l'Italia ha impegnato 182 miliardi di euro per la cosiddetta perequazione del Mezzogiorno e la condizione alla quale siamo è sotto gli osterocchi allora il punto qual è la mia ovviamente una provocazione non è che la risposta al deficit infrastrutturale che è deficit di mobilità di progresso e di sviluppo si risolve con i droni francesi che naturalmente volando non hanno bisogno né di reti ferroviarie né viari la risposta a questo deficit è certamente quello di formazione delle classi dirigenti del Mezzogiorno perché noi non possiamo soltanto dare la responsabilità agli organi politici che pure le hanno ma c'è anche una responsabilità naturalmente dei funzionari che hanno il cosiddetto morbo della firma perché avendo la preoccupazione che venendo davanti alla corte dei conti possono vedersi messe le mani in tasca per responsabilità per danni reali questo produce una paralisi decisionale una e quindi voglio dare anche naturalmente un messaggio di speranza sul futuro una soluzione ci può essere noi l'abbiamo già sperimentata nello sblocca cantieri non reintrodurre il controllo preventivo di legittimità che tutti sapete è stata una delle ragioni che si è ritenuto avesse in qualche modo anche fatto esplodere tangentopoli nel 92 perché si diceva era tutto registrato preventivamente e tutto sostanzialmente poi è stato oggetto di indagine penale no con lo sblocca cantieri viene previsto questo che l'amministrazione procedente la stazione appaltante possa chiedere alla corte dei conti un visto preventivo di legittimità sull'opera che va ad appaltare e nel momento in cui questa ottiene la registrazione l'opera si esegue e non è sottoposta più a nessun tipo di blocco o vincolo se questa noi la estendiamo perché uno dei grandi problemi che abbiamo è quello della giustizia amministrativa cioè la sospensiva che blocca le opere se noi immaginiamo e l'abbiamo già detto qualche giorno fa nelle sezioni reunite che si potrebbe procedere con un'acquisizione preventiva anche qui utilizzando il precedente dello sblocca cantieri di valutazione preventiva del visto di legittimità della corte dei conti la quale una volta data preclude la sospensiva noi avremmo realizzato almeno il 50% dello slancio nell'attività di opere pubbliche grazie in questo quadro che definire decolante è veramente poco c'è però da farsi qualche domanda rispetto anche a quelle che sono io torno sempre a quello di cui discutevamo prima le dinamiche europee rispetto a tutto questo anche al finanziamento delle opere pubbliche e non solo alle dinamiche che insistono sulla governanza delle regioni che oggi sono di strettissima attualità quando parliamo del dibattito sul regionalismo differenziato mi viene da fare una domanda rispetto nell'introdurre l'intervento del presidente della fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore per quale motivo alla luce di questa enorme carenza di infrastrutture di cui il mezzogiorno ha certamente bisogno in un quadro in cui il piano Juncker ha visto l'Italia come primo beneficiario di opere pubbliche per quale motivo la Sicilia non sia presente nel piano Juncker di già ampia realizzazione perché è partito con la scorsa legislatura europea e nello stesso tempo per quale motivo a volte non ci sia la opportuna pressione lo diceva il dottor Colosimo non possiamo ricondurre tutto alle colpe della classe politica ma non solo non ci sia l'opportuna pressione sulla mancata presenza si parlava poco fa del fare lobby del fare rete di un mezzogiorno che non fa lobby in Europa mi viene da pensare alla dinamica delle macro regioni di cui mi sono occupata come europarlamentare che vedrebbero la Sicilia proprio al centro quanti anni abbiamo passato a dire la Sicilia al centro del processo del Mediterraneo vedendo poi la mancanza totale di interlocuzione addirittura di presenza nelle sedi decisionali dei diretti interlocutori noi nella macro regione pur essendo una delle regioni pesantemente coinvolta in senso positivo praticamente non esistiamo avendo assegnato l'asse del turismo mi posso avvalere la facoltà di non rispondere e già questo dice molto devo dire partirei da un dato mi ha fatto piacere ringrazio Nino Fotti di essere stato invitato a questo dibattito sul tema degli investimenti e delle politiche per il sud ho sentito prima gli altri interlocutori comunque che hanno partecipato a questo dibattito e devo dire subito a chi mi ascolta che io non sono uno studioso né di investimenti né di politiche per il sud quindi cercherò di dare un contributo meno tecnico non ho dati non ho elementi da poter dare ma essendo diciamo occupandomi della presidenza della fondazione Sicilia che si occupa in questa regione di dare un supporto sotto il profilo culturale sotto il profilo dell'educazione prima ancora che da presidente della fondazione Sicilia direi da cittadino mi pongo il problema di operazione verità facendo il penalista devo dire che la verità non esiste e si creano tante verità e quindi noi cerchiamo sempre una verità ma non sempre quella reale e però ci sono alcuni dati che non possono non essere tenuti in considerazione sono elementi fattuali certi innanzitutto il primo nella nostra Costituzione all'articolo 3 c'è scritto che la Repubblica deve cercare in tutti i modi di eliminare gli ostacoli che servono per lo sviluppo del paese quindi se ci sono regioni che sono rispetto ad altre in una situazione di sviluppo inferiore è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli allora partendo da questo dato effettivamente in questi anni la Repubblica si è impegnata per rimuovere questi ostacoli rispetto alla crescita economica in questo caso parlo della Sicilia e la risposta è sicuramente no si può dire che questa è una verità e io posso portare degli esempi concreti sia sotto il profilo fiscale ma non soltanto fiscale anche sotto il profilo del turismo ma non solo del turismo anche della fruibilità ad esempio dei beni culturali che dimostrano come in effetti in questi anni siamo stati traditi nel senso che nessuno si è interessato realmente di rimuovere gli ostacoli per lo sviluppo della nostra Sicilia faccio due esempi su cui mi sono imbattuto uno quando ero all'università studiavo diritto tributario e l'altro invece professionalmente perché faccio l'avvocato il primo tutti sappiamo che la Sicilia è un'isola e isola per definizione significa isolamento attorno alla Sicilia vi sono 13 isole minori che sono isolate durante tutto l'anno ogni anno siamo abituati a leggere il giornale che la nave non può attraccare l'acqua non può arrivare la donna non ha potuto partorire si è spostata in elicottero quindi reali situazioni di isolamento molti non sanno però che in Italia in Lombardia vi è Livigno una località scistica famosa che è una zona extra-doganale perché nel 1910 rimaneva isolata perché vi era la neve e quindi sostanzialmente per sei mesi l'anno era isolata oggi siamo nel 2019 nessuno si pone il problema che Livigno è ancora una zona extra-doganale e nessuno ha mai pensato dico anche dei nostri parlamentari di chiedere gli stessi benefici oggi nel 2019 dove le situazioni di isolamento erano sicuramente più gravi nel 1910 nei confronti delle isole minori lo sono ancora oggi e ancora oggi non si pone il problema ad esempio di togliere l'iva in questa regione altro esempio altro esempio perché se si deve fare rimuovere gli ostacoli penso al turismo io mi sono occupato professionalmente all'epoca ho assistito il cavaliere Domenico Guarnaschelli non so quanti sanno che fu un pioniere cercò di aprire proveniendo dall'Africa cerchè di aprire a Tormina un casino ci riuscì nel 1963 all'epoca non lo difendevo sono più piccolo non ero ancora nato ma lo difese in altre vicende nel 1963 cercò di aprire il casino di Tormina e lo fece con un decreto dell'assessore al turismo chi fa penale qua ci sono due penalisti davanti a me sa che la legge penale non può essere derogata da un decreto assessoriale ragione per cui lo chiusero lo processarono e lo condannarono ma non è questo il problema il problema è che nessuno sa e invece io l'ho saputo perché ho potuto verificare leggendo le due sentenze che allora mi dette il cavaliere Guarnaschelli che il casino di San Vensan è stato aperto con un assessore del presidente della regione della Val d'Aosta quindi è stata anche là violata la legge perché sostanzialmente c'era un decreto del presidente della regione e allora furono assolti a differenza di Guarnaschelli perché si disse che siccome le entrate del casino di San Vensan entravano nel bilancio dello Stato il bilancio dello Stato viene approvato con legge allora era la legge che aveva derogato dimenticando però che anche le entrate nel bilancio dello Stato nel bilancio dello Stato vienono anche quelle del casino di Taormina però il casino di Taormina rimane ancora chiuso e faccio un'ultima considerazione dove sono i casino in Italia sono a Sanremo a Venezia a Campione sono a San Vensan 4 casino oggi non servono più falliscono e quindi sostanzialmente non vanno bene ma nel 63 servivano per il turismo certamente per rilanciare la Sicilia e nessuno ha mai pensato invece di aprire un casino in una località turistica siciliana parlavo di fruibilità dei beni culturali ed è la cosa che più mi sta a cuore noi sappiamo che abbiamo la Valle dei Templi uno dei posti più belli del mondo perché neppure ad Atene voi troverete quelle risorse che abbiamo noi in Sicilia oggi è qua veramente una capacità disumana quasi divina si è riusciti di fronte ad un'isola la Sicilia a creare un arcipelago nel senso che è difficile raggiungere una provincia con l'altra ancora abbiamo problemi con a Genova in un anno sono riusciti a iniziare i lavori per il ponte che è crollato e per il pilone dell'autostrada della Palermo Catania sono passati già ben quattro anni e ancora è chiusa cinque anni il viadotto che è caduto nella Palermo Agrigento ancora non è stato ricostruito allora io credo che ci sono realmente dei dati oggettivi che dimostrano una verità che la Sicilia e il sud è penalizzato e i dati che sia Napolitano sia faceva riferimento anche a Swimeds che ha fatto sul dato che è allarmante cioè che si investe di più nelle regioni ricche e si investe di meno nelle regioni povere che è una cosa incredibile che non si può accettare da cittadino non si può accettare da genitore perché ho un figlio che è a Milano e una figlia che in questo momento è in Inghilterra e non posso accettare che i giovani scappano da questa terra perché non ci sono le strutture sentivo prima la domanda credete nel futuro è chiaro che ci crediamo tutti però dobbiamo essere realisti se non si fanno infrastrutture se non si creano occasioni di lavoro questa terra certamente non potrà dare alcun frutto ai nostri figli Dottore Bocicchione prima di restituire immediatamente il microfono volevo integrare quello che è il suo grido d'allarme riconducibile a tutte e tre le questioni che comunque lei ha toccato e questo vede la condanna del doppio ruolo giornalista ed eurodeputato della scorsa legislatura le rispondo sulla condizione di insularità io ho incentrato metà del mio lavoro parlamentare perché si dà il caso che dopo trent'anni io sia stata quella che ha scritto la risoluzione sulla condizione di insularità che ha ottenuto il riconoscimento da parte del Parlamento Europeo che per la prima volta dopo che trent'anni se ne parlava ha votato a grande maggioranza questa risoluzione sulla condizione di insularità e stiamo ancora aspettando che questa venga fatta valere cioè Europa ce l'ha riconosciuta ma adesso noi stiamo aspettando che i frutti di questo lavoro vengano messi a regime Giovanna no io volevo adesso chiedere soltanto al presidente Foti che mi pare giusto sia in qualche modo colui che conclude questo tavolo il sud negletto con tantissime risorse grandi intelligenze grandi iniziative e soprattutto una grandissima passione perché a me una cosa mi pare certa di quello che noi ci siamo detti finora che non manca la passione e anche la tenacia e il coraggio per tentare alcune cose però quanto questo stesso sud è colpevole ad esempio colpevole in sprechi colpevole in associazione criminale per la situazione in cui si trova grazie per la domanda io non so quando è iniziato il primo numero dell'altra che data era il 10 aprile a Largo Fontana della Borghese ho comprato il primo numero un euro e leggendo il primo numero oltretutto nel primo numero mi sembra di ricordare il direttore che c'era una prima pagina con un intervento del presidente della Banca Centrale Europea datato di qualche tempo fa nel quale rappresentava con mia grande sorpresa perché io pensavo di leggere l'editoriale non era una sorpresa che si allarmava sulla situazione della cancellazione del sud della separazione del sud che non solo in Italia ma anche un giornale inglese l'economist aveva messo in grande evidenza e da un lato mi sono compiaciuto perché l'operazione verità caro direttore su questa base il fatto che adesso siamo accompagnati da un giornale che per quanto giovane ha una una forza dirompente di passione la fondazione Magna Grecia per questa operazione verità ha costituito un laboratorio proprio con l'Eurispes qualche anno fa a Palermo abbiamo iniziato proprio questa naturalmente non con la forza che può esserci oggi ma per dare un riscontro a questa operazione verità bisogna andare nel tempo lui è stato nei giorni scorsi dirompente con l'annuncio della cancellazione delle regioni però una verità storica che nel 48 sono state istituite dopodiché per un ventennio non si è fatto niente sono state istituite formalmente nel 70 ma non per un decentramento sentito ma era uno scambio tra il partito comunista e la democrazia cristiana per cui non è mai stato un bisogno dei territori che ha consentito questo decentramento che come sapete ha avuto doppia velocità perché nel centro nord avendo loro una storia di associazionismo il presidente Spadanzani notava che con gli artigiani al nord si associano al sud non c'è individualismo ma anche allora le regioni del sud l'ho spiegato non mi ricordo in quale intervento c'è uno studioso americano che l'ha specificato bene in un libro le regioni pubblicato a Mondatore tradizione civile nelle regioni italiane spiega perché al nord funzionano e al sud funzionano per cui questo passaggio fondamentale non è stato recepito perché molte regioni in molte regioni i cittadini non si sentono cittadini nelle regioni immaginate le Marche del Lazio io non ho mai sentito che uno dice io sono della regione del Lazio forse in Calabria in Sicilia ma in una buona parte dell'Italia le regioni non hanno avuto questa sensibilità per cui ci sono stati un livello e rispondo alla domanda di incompetenze di incompetenze della classe burocratica dirigenziale che è stata improvvisata spesso in alcune regioni del sud per esempio in Calabria gli uscieri sono diventati dirigenti perché non avevano dove prendere i consiglieri regionali i diputati regionali erano i portaborse dei portaborse dei parlamentari dell'epoca per cui l'investimento è sulle persone l'uomo è la fine non uno strumento per cui le istituzioni si identificano con gli uomini e quindi c'è stato un disastro che è venuto nel tempo con le incompetenze varie si è aggiunta quella che il direttore nella linea editoriale l'intenzionalità dello Stato centrale perché alcune opere quando si disamina l'aspetto delle infrastrutture importanti del paese oggi è molto difficile la sostenibilità perché ci sono i vincoli europei i vincoli nazionali quindi servirebbe solo non una legge speciale ma una governanza speciale non dico oltre se no qualcuno intende male ma per risolvere questo problema non è più semplice ci vuole un governatore stile passato perché la situazione è disastrosa per cui quello che è accaduto è che quando hanno fatto l'alta velocità fra Milano e Roma allora il caro direttore era sostenibile finanziariamente per il paese fare la Napoli Palermo Napoli Reggio Carabba con un sedime preposto per l'alta velocità ma non è stato fatto ma nessuno lo sa nessuno dà una spiegazione e io penso che anche su queste e altre opere proporre anche una commissione d'inchiesta per capire le ragioni per cui tutto questo non è stato fatto non toglie le responsabilità dei politici molto spesso inetti incapaci impreparati nel tempo naturalmente nulla togliendo a quelli che invece fanno il proprio dovere e l'hanno fatto bene e sono stati messi tante volte da parte per dimostrare questo ma la realtà di oggi è che l'autonomia di cui avete parlato è stata scritta più di un decennio fa cioè è stato scritto nel 2001 con la riforma del titolo quinto della costituzione votata con solo 4 voti con una forzatura dell'allora partito democratico inutile perché pensavano di avere la benevolenza della lega e questo è il punto fondamentale no hanno consentito consentito che quell'articolo che dal 2001 a oggi quanti anni sono passati 18 anni ma voi avete spiegato a tutti che in 18 anni nessuno si è sognato di chiedere quello che stanno chiedendo adesso le regioni del nord ma avrebbero potuto chiedere nel 2002 allora anche allora è stato un baratto non politico un baratto di interessi perché c'era l'aspettativa che la lega potesse a quel tempo dare i voti nella legislatura successiva per cui con questi precedenti l'operazione della verità deve avere un'accelerazione nel presente e nel futuro prossimo cioè da domani perché alcuni aspetti non sono più tollerabili per cui senza piagnisteo senza piagnisteo perché questo non serve a nessuno perché dopo dire che i meridionali sono così è la verità molto spesso si piangono addosso però mettere in evidenza uno sparteacqua delle responsabilità istituzionali secondo me è un fatto che va messo in evidenza il loro giornale lo sta facendo bene e io un euro al giorno ancora continuo a comprare io direi di dire subito prima di dire l'altra cosa allora in sala abbiamo il direttore del TG3 che è Giuseppina Paternite è una vostra conterranea siciliana quindi anche un vostro orgoglio uno dei più grandi produttori cinematografici italiani che è Fulvio Lucisano il regista Mimmo Calopresti il regista Mimmo Calopresti il direttore vedo di Lugana Film Commission Pari delle Porace credo che ci siano anche gli altri protagonisti del dibattito successivo poi mi suggeriva Scuderi ah Scuderi giustamente e poi Cordaro io non lo so non l'ho visto perché ho i fari negli occhi però c'è ok sono i fari negli occhi con i fari facciamo fatica quindi premesso questo premesso questo io stavo veramente per chiudere a meno che qualcuno non voglia aggiungere qualcosa io vi direi pausetta brevissima per un caffè e ci rivediamo tra un quarto d'ora e venti minuti tra un quarto d'ora esatto tra un quarto d'ora ci vediamo tutti qua così potete continuare col caffè a parlare di questi argomenti che sono molto importanti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.